Ben trovati ai telespettatori, quest'oggi siamo pronti ad intraprendere un viaggio nella innovazione. Parleremo tra pochissimo di un motore che è nato più di 50 anni fa e che oggi va sviluppandosi in tutto il mondo ma che dall'Irpinia e non solo dall'Irpinia si è propagato ad idearlo, a pensarlo, a lavorarci nel tempo, a migliorarlo. E' il signor Gaetano Caposè, la titolare dell'omonimo maglificio all'interno del quale ci troviamo. Perché poi la passione per le cose, per lo studio, la curiosità per migliorare in questo caso i motori, ma più in generale i meccanismi, nascono credo dai banchi di scuola e arrivano poi nell'azienda di famiglia. Sì, è proprio così. In effetti diciamo che ho incominciato a immaginare un motore diverso quando andavo a scuola, negli ultimi anni di sono periodo meccanico. Quindi mi resi conto che i motori endotermici avevano un rendimento del 20-25%, quindi troppo basso rispetto al consumo che invece generavano. Perché? La domanda ricorrente che lei si faceva, qual era? Non è possibile che diamo per esempio su un litro di benzina solo il 20% lo richiaviamo in energia, l'altro 80% invece se ne va in fumo e quindi in inquinamento. Per cui ho incominciato a ipotizzare che c'era qualcosa che non andava. Come aumentiamo le prestazioni di questo motore? Era questa la finalità? Non solo le prestazioni, il rendimento, ma anche cercare di evitare quello che era l'inquinamento che è veramente molto alto nei motori a combustione. E quindi ho incominciato a pensare come si poteva fare. D'altronde già a suo tempo c'era qualcuno che lavorava in tal senso, era il motore Wankel della NSU Prince, che poi ha avuto delle migliorie, però poi non sono riusciti a dare un cilindro rotante. Invece? Invece noi che cosa abbiamo detto? Certo è venuto il passaggio negli anni, non è stata una considerazione. L'idea è venuta per alcuni anni quando io ho pensato che nei motori avveniva una fase. C'era il pistone che si muoveva da una parte e invece la testata che sopportava dall'altra. La testata era ferma, ma se io faccio un applauso, lo faccio con le due mani, per cui io dico ma perché non metto un pistone al posto della testata e metto due pistoni opposti l'uno contro l'altro. Quindi evitiamo che innanzitutto la vibrazione del motore, ma poi recuperiamo l'energia che comunque si disperdeva sulla spalla, dicono la spalla o sulle testate. In più, per poter fare questo avremmo dovuto avere la necessità di eliminare quello che erano gli attriti che c'erano, come si poteva fare. Quindi siamo andati nel motore a due tempi, che è un motore eccezionale. Perché? Proprio perché a due tempi riduce a metà quelli che sono gli attriti, riduce a metà quelli che sono i tempi. Quindi possiamo fare maggiori numeri di giri in un minuto, per esempio. Di evoluzione in evoluzione. Il nostro operatore di ripresa, Luciano Mangiante, ci aiuterà nel corso di questo viaggio verso il motore del futuro, ma intanto così nasce il motore caposela. Esatto. Con questa idea ci sembrava talmente facile da poterla realizzare che l'abbiamo realizzato. Quindi abbiamo praticamente messo in un'unica camera di combustione, in un solo cilindro, noi abbiamo messo due pistoni. Uno da destra va verso sinistra, l'altro da sinistra va verso destra. Ovviamente questi due motori si devono muovere in maniera sincrona, per cui con due pulegge, una da una parte e una dall'altra, abbiamo calettato con una cinghia dentata, quindi abbiamo un movimento perfettamente sincrono. I due pistoni si muovono su un conto. E quindi abbiamo fatto le quattro fasi in un motore a due tempi. Ecco, montandolo poi ad esempio su un kart. Questo è il primo kart? Il primo kart al mondo, praticamente, che si muove con pistoni opposti in un unico cilindro. Luciano, tu che sei dietro la telecamera in questo momento, hai qualche domanda per il signor Caposela? Beh, se ci sono effettivamente risparmi sui consumi. Ci sono risparmi sui consumi, chiede Luciano. Sicuramente sì. Perché? Perché abbiamo la possibilità, innanzitutto, di diminuire gli attriti. Abbiamo la possibilità di fare le quattro fasi, le facciamo con la metà dei tempi rispetto a... E quindi abbiamo la possibilità di avere un maggiore rendimento termico, quindi maggiore rendimento termico significa minore dispersione di... E' chiaro il vantaggio. Chi ci guadagna e chi ci perde da questa scoperta? Ci guadagniamo tutti. Perché in effetti, se noi riusciamo a realizzare, fare in modo che un motore funziona, senza alba da cam, senza testate, senza maggiori attriti, ci guadagniamo tutti perché abbiamo un rendimento maggiore. Un rendimento maggiore significa meno inquinamento. Ma poi non è solo quello. Avere un motore perfettamente equilibrato ci consente di poter aprire altre nuove idee. E tra poco ci arriveremo perché abbiamo visto il kart, ma potremmo, o meglio, il signor Caposela ha immaginato un utilizzo che arriva fino anche agli autobus di cui oggi tanto si discute o addirittura questo motore potrebbe avere degli utilizzi all'interno delle singole abitazioni per la produzione di energia, ma non voglio anticipare nulla. Come si è evoluto nel tempo il motore Caposela? E negli anni poi anche gli americani ci hanno messo mano. Ha fatto arrabbiare questa cosa? No, anzi. Ci ha galvanizzato ancora di più. Perché onestamente, avendo avuto dei problemi fisici alcuni anni fa, avevo deciso di mollare. Poi invece questi americani che hanno realizzato un motore 2004 di cilindrata in tre cilindri con sei pistoni opposti mi hanno fatto ricredire e quindi ci hanno dato quella carica che è importante per poter andare avanti. Perché ha pensato, io l'avevo detto. L'avevo detto. Quella è stata la conferma. La conferma. Ma poi quella carica ci consente di sviluppare altre situazioni e quindi siamo andati avanti. E la differenza qual è? Gli americani hanno realizzato un motore con sei pistoni opposti in tre cilindri in un solo monoblocco. Noi invece, avendo fatto con questo sistema delle puligie e con le ruote dentate, abbiamo la possibilità di poter mettere tre o due o tre motori di questi uno a fianco a un altro. e farli funzionare in tandem al momento in cui ci necessita. Per esempio, se io ho tre cilindri con sei pistoni in un vano motore, quindi come si vede può entrarci perché è piccolo. Io sotto il semaforo russo non ho necessità di avere tre cilindri in moto, me ne basta uno. Quando vado fuori di città posso mantenere due, quando vado in un'altra città li faccio partire tutte e tre. Quindi anche questo immaginiamo che dispersione in meno abbiamo di inquinamento. Perché non ho necessità di avere... Con le macchine adesso lo fanno lo start e stop, cioè tu arrivi e si spegne la macchina. Noi invece no, diciamo, lasciamo perdere questi sistemi, facciamoli in questo. Quindi in maniera ancora più semplice, banalmente, ma efficace, perché a seconda della circostanza poi si utilizza... Io vedo qui anche una targa, Irpinia Innovation Award. Quindi questo per dire che nel tempo si è lavorato e qui le scuole potrebbero venire, signor Caposela, per vedere, per studiare? Già da Faenza ci chiesero a suo tempo di poter collaborare con l'istituto tecnico di Avellino per i motori a basso consumo. Ci chiedevano il nostro motore per poter fare le prove che loro fanno ogni anno e le gare che fanno. Poi non se ne fece più nulla, ma io sono andato all'istituto tecnico industriale dove io mi sono diplomato e ho detto che avevo l'intenzione di poter dare la possibilità ai ragazzi di poter vedere questo motore presso la nostra sede e poi di incominciarsi a cimentare insieme a loro per andare avanti in modo da dare ai ragazzi anche la possibilità di credere in un futuro diverso. Ecco, c'è stato un brevetto, chiariamo anche questo, c'è stato un brevetto, poi dal brevetto alla realizzazione sarebbero serviti circa mezzo milione di euro e lei sta andando verso le carte perché il signor Caposela parla carte alla mano. Noi avevamo la necessità di eliminare il più possibile gli attriti con un solo cilindro e due pistoni avevamo già, e quindi un motore a due tempo, avevamo già ridotto del 50% quello che erano gli attriti anche perché non abbiamo albero a camo, non abbiamo valveri, vi dicendo, ma avevamo necessità di ridurre ancora questi attriti perché attriti significa consumo, consumo significa dispersione. Quindi avevamo pensato che avendo un solo cilindro e non essendo più vincolato alle testate noi possiamo girare il cilindro e facciamo, diciamo, delle uscite, dei fori alla cilindra e a secondo di come questi fori combaciano con gli ignatori, con il gas, il valvole scarico e la candela noi possiamo, e quindi abbiamo realizzato questo motore, che poi c'è anche il video che è con il cilindro rotante, con i due pistoni che si muovono l'uno contro l'altro abbiamo ottenuto brevetto europeo, la televisione ne parlò, quindi da Modena ci chiamarono e ci avevano chiesto 450 mila euro per poter realizzarlo ovviamente non avendo queste capacità, la regione Campania non ottenemmo nulla e poi i motori ce li siamo fatti piano piano. Ah, quindi siete andati avanti a prescindere, ecco questa è la passione che tutto muove. Con i motori a pistoni opposti e sempre in un unico cilindro anche Bill Gates aveva finanziato dei tecnici per realizzarlo e hanno realizzato il motore Oppo. Cioè anche Bill Gates aveva chiesto a degli specialisti di realizzare il miglior motore possibile al mondo e l'idea era quella? L'idea era quella, infatti c'è un unico cilindro a sinistra dove ci sono i due pistoni che si muovono l'uno contro l'altro un altro cilindro a destra con altri due pistoni che si muovono l'altro. Io chiedo a Luciano se ha un'altra domanda a questo punto. Sì, prima ha parlato di motore a due tempi e il problema del motore a due tempi è che oltre a bruciare benzina brucia anche olio che inquina e come avviare a questo problema? Come avviare a questo problema? Certo, è bella la... A parte che nel mondo intero ci sono ancora tutt'oggi milioni di motori che funzionano a due tempi e che inquinano, io sono d'accordo con quanto dice Luciano. Ma proprio per evitare questo noi avevamo pensato al motore con il cilindro rotante in modo che le varie fasi non vengono più fatte da solo pistone con la camera di espansione ma tramite delle uscite indipendenti e quindi possiamo eliminare il carter lo teniamo solo e esclusivamente per il bagno del motore quindi per la lubrificazione dei pistoni. Luciano, soddisfatto un sistema dinamico che in qualche modo dà risposte più efficaci? Beh sì, sono soddisfatto. Bisogna adesso vederlo in atto questo motore. In effetti diciamo che nel motore a due tempi tradizionali noi prendiamo la benzina e ci mettiamo una percentuale di olio e poi il tutto viene fatto entrare nel carter e viene pompato all'interno del cilindro. Noi invece che cosa abbiamo detto? No, la benzina la possiamo fare entrare ma direttamente senza più l'olio, i pistoni li possiamo lubrificare senza più micelare di colore e quindi è nato. E quindi qui lo vediamo realizzato? Non è ancora quella al cilindro rotanti ma già è con questo sistema, d'accordo? Praticamente noi che cosa ci abbiamo? Ci abbiamo due candele che sono qui e due candele meglio di una, l'abbiamo già visto. D'altronde l'Alfa Romeo faceva un motore Twin Spark che aveva il doppio delle candele. Qui abbiamo realizzato anche la lubrificazione al liquido proprio per ulteriore capacità. Questa lubrificazione al liquido che cosa ci consente? Di poter recuperare anche l'energia, quindi il calore che si sviluppa in motore a combustione poi mettendoci una turbina a vapore riusciamo a recuperare e non sprechiamo più. Cosa ne facciamo poi di questo vapore? Innanzitutto mettendo una turbina noi riusciamo a recuperare altra energia che lo mettiamo. All'interno del motore stesso? Lo possiamo far funzionare perché noi a fianco a questo motore possiamo metterci un alternatore. Ecco immaginiamo questo motore. C'abbiamo il motore, c'abbiamo l'alternatore. Noi quindi prendiamo questa energia del motore, facciamo girare l'alternatore, dall'alternatore ci prendiamo l'energia elettrica. Da questo il passo nei motori ibridi è facilissimo. Perché io prendo un motore elettrico, il futuro sarà per i motori elettrici, non solo per quanto riguarda il risparmio di energia e quindi l'inquinamento, ma perché il motore elettrico ci consente di eliminare il cambio, il pesantissimo cambio, perché con il motore elettrico riusciamo a poter aumentare i numeri di giri e possiamo fare la marcia indietro quindi senza cambio, quindi riusciamo a recuperare peso. Però i motori elettrici, quelli che sono solo elettrici, funzionano oggi con batterie, agli ioni di litio che comunque costano un sacco di soldi, pesano comunque tantissimo e alla fine dopo 4-5 anni si esauriscono. Cioè bisogno di sfruttare più tecnologie, di mettere insieme più tecnologie e queste sinergie di tecnologie probabilmente saranno il futuro. Io invece faccio un salto nel passato perché quando si parla di motore elettrico io vedo qui davanti un piccolo bus che all'epoca fu del comune di Avellino. Perché qui? Siccome ci piaceva toccare con mano quello che stavamo pensando, avevamo ipotizzato di realizzare un motore a gas liquido che è questo qui, quindi un motore piccolo, questo è 300 cm3, che ci dà praticamente 20-25 kW di energia quindi con un alternatore, prendere il tutto e metterlo su un motore elettrico perché noi siamo convinti che il motore elettrico è l'avvento per il progresso però non siamo affatto convinti delle batterie. Anche perché... Quanto pesano le batterie di quel piccolo pullman? Questo è un pullman che il comune di Avellino aveva preso una ventina insieme ad altre ventine di motocicli, tutti elettrici solamente che questi facevano 10-15 km, rimanevano impantanati e bisognava pigliare quel carro d'attrezza. Non c'era più la stazione di rifornimento elettrica. Quindi le hanno presi abbandonati, nuovi così come erano, le sono stati abbandonati e dopo una ventina d'anni le hanno rottamati. Io sono andato da Mandile dove loro erano elettramati e ne ho chiesto uno l'ho pagato, me lo sono preso e me lo sono portato. Perché l'idea è che possano funzionare con questo motore. E certo, perché il futuro è questo. Certo, sembra una cosa scontata, banale, ma insomma questo è per dire che dalle idee si passa poi ai fatti, alle applicazioni concrete. Non è più il momento dei pali, dei fili, dei filobus, ormai la tecnologia è andata avanti. Noi abbiamo bisogno di pullman che possono muoversi nell'ambito della città in qualsiasi momento e in tutte le direzioni, per tanti motivi. Per cui avevamo preso questo pulmino e volevamo mettere uno di questi motori a supporto. Nel senso che mettiamo il minimo delle batterie, questo c'ha 16 batterie a secco. Quindi il minimo batteria, gli ioni di litio, perché adesso la tecnologia ci ha portato questo tipo di batterie, il minimo però, 4-5 batterie, solo per poter fare il tragitto che necessita il pullman. Però se c'è un problema, un qualsiasi problema, immediatamente parte il nostro motore che gli dà l'energia elettrica che serve per poterlo far funzionare indipendentemente. È come se ci fosse un altro motore che gli... però solo gli dà l'energia elettrica per poterlo far funzionare. Allora, ricapitolando, il motore Caposela può trovare utilizzo anche nella installazione di bus? Signor Caposela, invece, a casa, nelle nostre case, questo motore può entrare in qualche modo? L'inquinamento non è dovuto solo ai motori, l'inquinamento è dovuto anche essenzialmente alle caldaie di riscaldamento che abbiamo nelle case, perché consumiamo e distribuiamo metano. Non è detto che tutte le caldaie funzionano perfettamente bene, quindi bisognerebbe ogni anno andare da revisionare, ma in tutti i casi c'è inquinamento. Perché? Perché le caldaie funzionano in generale con il metano. Abbattere l'inquinamento, questa era l'idea di 50 anni fa, ma l'idea è ancora quella attuale. E immagino utilizzare il metano all'interno di questo circuito per produrre energia. Certo. Se noi prendiamo, invece di bruciare unicamente il metano per farne acqua calda, noi prendiamo un motore endotermico piccolo, perfettamente equilibrato, resistente, che non ci dà problemi, noi facciamo passare il metano prima nel motore, il quale motore genera energia elettrica e mandiamo direttamente in casa energia elettrica, non più metano. Quindi evitiamo gli incendi, evitiamo gli scoppi, evitiamo ogni cosa. Uno. Secondaria cosa, l'energia elettrica che noi manciamo possiamo mettere dei condizionatori, quindi non abbiamo più necessità di mettere stufa a pellet e quindi altro inquinamento. In ogni stanza possiamo mettere temperature diverse. Quindi energia elettrica, solo energia elettrica nelle case, quindi con il generatore di corrente. Ma abbiamo bisogno dell'acqua calda, ok, il motore genera calore. Questo calore lo mandiamo in casa per quello che può essere... Questo è per l'energia domestica, ma la trasformazione di energia può essere fatta nell'industriale. Immaginiamo quanto risparmio abbiamo di energia, di metano e quanto risparmio abbiamo per l'inquinamento. Io prima le ho fatto una domanda, chi ci guadagna, chi ci perde. Chi ci guadagna, ci guadagliamo tutti. Chi ci perde, probabilmente, questo poi è il grande tema che non affrontiamo qui, della evoluzione, del progresso rispetto agli interessi che pur esistono, interessi in campo che possono fermare o accelerare lo sviluppo a seconda. non cercavo una risposta in tal senso. Arriviamo alla fine di questo viaggio, perché, tirando le somme, il motore Caposela è stato mosso sino ad oggi da passione. Lei ce lo ha testimoniato con questo racconto. E ora che cosa ne vogliamo fare? Adesso, la prima cosa, la soddisfazione nostra, è quella di poterlo far vedere alle scuole, alle università. Quindi invitiamo ogni sabato, questo sabato, all'altro, saremo pronti per farglielo vedere proprio in moto. Ok, quindi le università, le scuole, in particolare le scuole, specie le scuole tecniche, in modo che i ragazzi incominciano ad avere, a toccare con mano altre possibilità. Non è vero che il mondo è finito, non è vero che il sud non può andare avanti. Ci sono tante cose da poter fare. Immaginiamo se riusciamo a mettere e a fare motori di questo tipo, quante possibilità ci abbiamo nei pullman, nelle automobili, nelle case, negli ospedali. Quindi quanto lavoro si immediatamente parte? Ok, ma la cosa più importante, dobbiamo utilizzare il progresso. Non per farci ammazzare, noi dobbiamo utilizzare il progresso per migliorare l'umanità. Una volta l'aria è respirabile, adesso è irrespirabile, quindi dobbiamo necessariamente invertire le rotte e ritornare al naturale. Quindi naturale significa poter utilizzare l'energia in maniera naturale, non a sprecarla per inquinarci. Il messaggio è un messaggio quasi visionario, dico io, nel senso che oggi mancano spesso le visioni di come, dove andare, qual è la direzione da seguire, invece bisogna recuperare il pensiero, l'applicazione per poter raggiungere quello scopo. Lei si sente di lanciare un appello alle cosiddette istituzioni o è destinato a cadere nel vuoto e quindi non lo lanciamo neppure? No, noi lo lanciamo perché è giusto che lo facciamo. Poi se gli altri lo ricepiscono, bene, poi alla fine non è che noi possiamo pretendere che qualcuno lo deve farlo per forza. Ma immaginiamo una mobilità, per esempio, in una città. Oggi non è più pensabile di avere delle macchine che vanno con una sola persona, due persone che inquinano e via dicendo. Noi abbiamo necessità di una mobilità che deve essere gratuita per tutti. Con le tasse che paghiamo dobbiamo pagarci anche questa gratuità. Però in questa maniera che cosa abbiamo? Abbiamo che i giovani vanno a scuola senza essere accompagnati dai genitori, i pullman funzionano per gli anziani che non hanno necessità di essere. E quindi abbiamo una mobilità che è sostenibile, quindi con mezzi pubblici che devono essere elettrici, però senza questi benedetti fili, questi pali che non servono a pulne, sono anacronistici. Mettiamo in moto il motore Caposela. E questo è l'appello che faccio io. Luciano, hai altre domande in chiusura? Lo salutiamo. Ho solo la curiosità di provare con mano questo motore. Ah, ecco, quindi tu vuoi provare anche... Luciano guida i kart lì. Magari vorrebbe provarlo su un kart. Sì, come abbiamo detto, è il primo kart al mondo che funziona con pistoni opposti in un unico cilindro. Non questo sabato, ma l'altro ancora li metteremo in funzione, in modo che Luciano avrà la possibilità di farsi un giro. E Luciano, e non solo... Sì, è presente che questo è un motore realizzato in circa di 25 anni fa. Quindi c'è ancora tutto lo sviluppo che noi possiamo fare. Ed ecco perché le scuole devono passare da qui. C'è la possibilità di lavorare allo sviluppo. Intanto delle idee. I ragazzi possono esercitarsi, no? Probabilmente riusciranno a superarci, a inventarsi. Io dico inventarsi, non lo dico così per buffoneria. A pensare a cose diverse e realizzare forse anche motori migliori rispetto a questo. Però ci hanno la base per poter andare avanti. Grazie signor Caposela per questo viaggio in qualcosa di nuovo che è mosso però dalla passione innanzitutto. Ed è quella che abbiamo cercato di trasmettere in qualche modo in questo racconto a chi ci ha ascoltato, tecnici e non solo. Aspichiamo dalle scuole in particolare delle risposte. Ma perché no? Perché no? Ci sono anche visionari dall'altra parte della telecamera. Quindi qualcuno, chissà, avrà colto, capito la possibilità di uno sviluppo. Siamo in attesa di risposte. Siamo qui. È così. Sì, sì. Rimaniamo quello che siamo. Con la speranza che qualche cosa si muova per il beneficio di tutti. Grazie e grazie a Luciano e grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti.